Appassionati di gossip e tv Bentornati nel mio canale Baci ed effusioni sotto le coperte per Manuel Bortuzzo e Lulu I due ragazzi sono vicini ormai da diversi giorni Si cercano, si scambiano tenerezze E dopo le prime effusioni in piscina Questa mattina è scattato il bacio sotto le coperte Nel letto dove Manuel e Lulu stanno dormendo insieme Nel video ufficiale del grande fratello Non si vede molto Ma sul web ne sono sicuri È scattato il primo bacio E voi che ne pensate? Vi piacciono Manuel e Lulu insieme? Fatemelo sapere nei commenti E se vi va iscrivetevi al mio canale Per il momento è tutto Al prossimo video Ciao